A-a-a, moglie cercasi, senna prima, seconda, muto orazione, moglie cercasi, senna prima, terza, muto orazione, moglie cercasi, senna prima, muto orazione. Di che possono andare? Potete andare! Potete arrivare anche gli altri, forza, qualcuno venga giù, brave, brave le pettegole, forza. Bene, fermatevi a parlare, brave. Voi partite da qua giù e scendete, voi pure, mettetevi ancora più giù, quelli sul cadino. Non voi, da laggiù e voi scendete da qui. Potete girare. A-a-a, moglie cercasi, senna prima, nona, muto orazione. Corro le novi. Ma figli che sto sento! Via. Guardate i nostri godiani! Chiude la porta, questi sono. Guardate tutti! Lo di che? Lo ripetilo. Però è bello per lui. Finisciamo con questo? Viene loro, so. Dopo il mio via 3 secondi Cominciate a scendere Via 1, 2, 3 7, 2, 3 2, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7 8 9 10 11 11 12 Sì, è vero. a più di me questa cosa a più di me c'è il vento e poi se ne vedo 1, 2, 3 e poi via via Ah, 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 muoie, cercasi, cena prima, dodicesima, modo d'orazione. E' questo? Dovete urlare! Non sento niente. Vabbè, non riesce. Oh, la voce la tenete se no lo passiamo subito su gente. Vabbè, questo ce lo puoi andare a passare. Sì, sì, sì. Allora ragazzi, dovete... State in una cantina e state giocando a carte! Comportatevi come non fate in classe, che sembra che state in una campina. Qui se lo stanno comportando come a scuola. Grazie a tutti.